Ciao a tutti, che cos'è Natalidea? Natalidea è il modo diverso per comprare tutti i regali di Natale. Natalidea è sentirsi Babbo Natale per un giorno, venire qua perché il bello dei regali è trovarli tutti. Quanto dura? Dura fino a domenica 16, con orario feriale dalle 15 alle 22, festivo dalle 11 alle 23. Come vedete già in tanti stanno provando l'emozione di fare Babbo Natale per un giorno, per i bambini le fotografie con il Babbo Natale, con le renne, le slitta, provare l'emozione della neve dentro il Palasport e per una volta sentirsi Babbo Natale anche noi raccogliendo tutti i regali che ci servono per il Natale. Gli espositori vengono da tutta Italia e anche dall'estero, è anche un modo per stare tutti insieme perché poi di sera e durante l'arco della giornata ci sono eventi, ballo, dibattiti, abbiamo la polizia che ci spiegherà ai bambini come diventare detective per un giorno, abbiamo scuola di cucina, abbiamo ballo, abbiamo teatro, ma soprattutto abbiamo tanto, tanto amore da dare a tutti i bambini, questo è importante per noi, venire qua, sentirsi bene per comprare nel miglior modo possibile tutti i regali per questo Natale.